allora faccio gli auguri più cari a tutti i cittadini termoli di una santa pasqua felice periodo di festa termoli buongiorno termoli auguri a tutti quanti auguri 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 da hashtag donato da termoli mi raccomando fate un'ottima pasqua e ricordatevi di giocare 21 4 e 56 a bari e se produce donato da termoli se non che pasqua è auguri i più sinceri auguri di buona pasqua a tutti i nostri concittadini termonesi l'augurio maggiore è quello di possiate passare in serenità e tranquillità queste festività pasquali con i vostri cari ciao termoni auguri di buona pasqua un bacio a tutti e buon precetto sia per oggi domani e anche per domenica mi auguro che nella mia città insomma ci sia un clima bello sereno e soprattutto che sia questa anche l'occasione per stare insieme con gli amici per stare insieme con la famiglia e voglio fare i migliori auguri per una santa e felice pasqua a tutti i termolesi spero che possa vivere questa pasqua con più gioia e serenità e con un sempre maggiore prospettiva per il futuro credo che il futuro sia importante non solo per i cittadini termolesi ma per i cittadini italiani di tutta l'italia perché è un momento di crisi che sta per passare e quindi auguriamo loro una bellissima pasqua